Puzzo, ex grande nazionale insieme con Matteo Morandi, Alberto Busnari, Igor Cassina, Angioletti, c'erano questi nomi, Coppolino, Federica Gatti, Tiziana Di Pilato che è qui presente in pedana, Diego Pegara. Andiamo a vedere adesso il volteggio di Alice D'Amato, mentre Manila Esposito conquistato 13.60, superata però dalla Fenton 13.666. Dovrebbe partire Alice con uno Yurchenko con due avvitamenti, valore D di 5. Si presenta alla giuria. 25 metri di rincorsa ed ecco l'Yurchenko con doppia avvitamenta. Brava. Eseguito molto molto bene, brava. Un piccolo saltello all'arrivo da 0.30, non eccessivo ma sul resto del salto assolutamente non ci sono grandi altre penalità. Potremmo stare sul 9 o addirittura 9.00, 9.00, 9.00, 9.00, come nota. Allora, intanto non è ancora ufficiale, ma dovrebbe essere...